Sulla nostra regione è presente un campo di alta pressione supportato in quota da un promontorio di natura subtropicale, una configurazione barica che determina condizioni di stabilità con temperature lievemente al di sopra della media stagionale e proprio relativamente al campo termico nel corso di questo fine settimana avremo un ulteriore aumento dei valori a causa di un maggiore afflusso di aria calda dal nord africa correnti di scirocco che saranno convogliate dal vortice depressionario che staziona tra la spagna e l'algeria il quale raggiungerà il tirreno alla fine della giornata di domenica apportando un moderato peggioramento del tempo sulla nostra regione si tratterà di una parziale modifica della circolazione in area mediterranea in attesa di un cambiamento più significativo che potrebbe verificarsi nella seconda parte della prossima settimana ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend sabato 26 marzo condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque con modesti addensamenti ma senza il rischio di precipitazioni temperature in ulteriore aumento con valori che si porteranno ben al di sopra della media del periodo venti deboli da scirocco e mare poco mosso localmente mosso a largo domenica 27 ancora condizioni di tempo discreto con cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio nuvolosità che in serata potrebbe dar luogo a brevi ed isolati piovaschi temperature stazionarie con tendenza a diminuire tra il pomeriggio e la serata venti deboli da est sud est con rinforzi in mare aperto mare poco mosso sotto costa e mosso o molto mosso a largo lunedì la depressione iberica raggiungerà la nostra regione determinando condizioni di lieve instabilità con associate deboli precipitazioni a carattere sparso diminuiranno lievemente anche le temperature martedì temporaneo miglioramento in attesa di un cambiamento più deciso che potrebbe verificarsi tra mercoledì 30 e giovedì 31 marzo con l'arrivo di un'estesa perturbazione di origine atlantica che sarà preceduta da intense correnti da libeccio per maggiori dettagli invito delle spettatorie a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo facebook meteo cilento termino qui un buon fine settimana da giuseppe stabile